Amici buonasera bentornati in questo nuovo video youtube sono mancato per qualche giorno ma siamo tornati per i toz della liga che Li avrete già visti credo sono migliori a mio parere di quelli della premier toz pazzeschi che adesso andiamo a vedere sono usciti anche dell'SBC non perdo tempo raga perché Se no poi si allunga troppo il video ve ne proverò alcuni sicuramente come sempre usciranno poi le review qua su youtube prima però parliamo dell'SBC è uscito Rodrigo Liuk De Jonga ma è uscito soprattutto finalmente ragazzi Marcello è uscito Marcello ragazzi è uscito Marcello flashback sapete quanto vi voglio bene costa uno sfacello 800k quindi Vedete voi ma non mi chiedete com'è Marcello perché già lo sapete per me giocatore totale lo sblocco domani pomeriggio in live da sbloccare assolutamente lo userò terzino anche salto basso vi assicuro che non è un problema Fantastico palla al piede aggressività gli hanno messo un botto forse gli hanno messo un botto l'unica cosa in cui non hanno bustato è tanto la reattività e la freddezza ma guardate anche L'intercettazione il contrasto in piedi il controllo palla il dribbling appunto la forza e l'aggressività e anche la stamina non è incredibile Poteva essere 92 93 era meglio però ragazzi al cuore non si comanda lo sapete io Marcello sono un fast fegatato lo userò con ombra terzino Può fare però il cc può fare il terzino destro può fare il terzino sinistro non può fare il dc perché come spiegavo in live raga per me i dc devono essere alti un metro almeno un metro 80 Tolto tipo adama che sembra un metro 90 anche se un metro 78 perché un giocatore come Marcello che magari lo può anche fare perché a forza aggressività stazie difensive Vi dà poco margine di errore essendo un metro 74 capite magari mettete la gamba e tendono ad andare a vuoto Perché ha la gambetta corta un giocatore come Varano un giocatore come James come Van Bissaka vi danno più margine di errore quindi per me può fare tutti i ruoli Tarsino a destra tarsino a sinistra può fare il cc può fare il mediano volendo con fantasia ovviamente se lo sbloccate per me da usare o ts o td Mendy magari rimane superiore raga però per chi è fan come me ovviamente consigliato per chi non è fan lasciate stare perché il prezzo è esagerato Io ovviamente lo sbloccherò De Jong poco da dire raga perché è un giocatore off meta completamente tre stelle piede skill agilità bassa tanta forza lo sapete Non ve lo consiglio ovviamente Rodrigo invece è carino anche se è normale normale con tre piede debole però proprio perché ha tre piede debole 83 di potenza tiro Sulla faccia secondo me piotta però tipo uscito Carrasco che poi vedremo E con i tos secondo me non è più una carta che vi può tornare utile ragazzi io lo lascerei perdere onestamente Il prezzo è onerso perché chiede un 84 un 86 se poi prende anche l'upgrade del più 2 allora tanta roba Però lascerei comunque perdere perché costa cioè perché la carta è buona ma non è incredibile visto il normale normale tre piede debole Se lo sbloccate per me da usare solo in fascia stile intesa falco Comunque Marcelo vedete voi raga però io ripeto al cuore non si comanda io sono un fan sfegattato Costa troppo però quello è sicuro soprattutto con le alternative che ci sono Se poi proprio è aspettate magari che lo sblocchiamo noi se volete essere sicuri ma per me sarà un cartone Passiamo ai tos di liga che sono favolosi allora Messi Padosalmente il meno favoloso il meno pavoloso 91 di velocità generale poi va bene 97 di accelerazione Io ho provato il toti a me Messi non piace quest'anno Quindi lo sapete chi ha 4 skill e soprattutto giocatori come Messi che faticano a prendere velocità e quant'altro Non mi piace a volte l'ho trovato contro mi ha aperto perché chi lo sa usare per carità però comunque il giocatore non tanto da FIFA 21 Quindi vedete voi comunque il solito Messi lo sapete come Messi da utilizzare nel caso con base senza stile intesa Visto che ha praticamente tutti 99 ovunque Benzema secondo me è più che usabile Se vi piacciono questo tipo di punte da peso raga Karim The Dream Perché guardate allora dico che è usabile Voi direte vabbè solitamente li sconsiglio questi giocatori è vero Però a parte che ha quasi 90 di agilità ma poi Sopperisce un po' quella forza al body type e l'equilibrio con 99 di reattività 99 di controllo palla 98 di dribbling E quando tira questo ragazzi immagino che viene giù il mondo Ovviamente non è un giocatore in meta Non è un giocatore con cui si può andare via in velocità o far chissà che Ma questo da usare palla dentro l'area ti giri destra sinistra e sfondi le porte E secondo me a fare questo lo fa molto bene Cercherò di provare lo stile intesa motore per bussare l'equilibrio Simile a lui è Suarez che hanno dato finalmente la quarta stella di nuovo skill Ragazzi per me è più forte questo di Benzema E Suarez chi si ricorda ad esempio FIFA 18 quanto era forte O il toti di FIFA 17 Pazzesco raga Secondo me altro giocatore anche qua non in meta Qualcuno di voi forse aveva provato l'altra versione Che tipo le aveva detto che non era malissimo Secondo me questa è una gran bella carta Ripeto non in meta Non ci puoi skillare Non è giocatore da andare via in velocità Ma secondo me dentro l'area e a fare i tunnel Sta carta è devastante Oltretutto può fare pure il COC Perché guardate che bei passaggi che c'ha Stile intesa anche per lui Per me ci va motore Questa è una gran bella carta Ripeto per chi cerca qualcosa di diverso Ovviamente i soliti Rashford, Cristiano Neymar sono meglio raga Però per cambiare un po' Questo per me è un top player E questo cercherò di provarvelo assolutamente Carrasco prima di passare al Dio Carrasco 4-4 Ragazzi Bella carta anche qua Per la faccia come vi dicevo prima di Rodrigo Molto simpatico Il classico veloce Con agilità eccetera Magari vi serve allincare anche un Suarez O qualcun altro Io lo utilizzerei anche qua Anzi qua un finalizzatore più che motore Per me questo l'ho utilizzato esterno raga In nessun altro ruolo Poi può fare magari anche la punta del COC Ma per me è il suo ruolo esterno Carta carina Credo anche che il prezzo sia semi onesto Perché comunque è una di quelle tante carte Su questo stile Ripeto buona Ma fa la faccia Fondamentalmente P8 Costa sui 500 Prezzo più che onesto Passiamo al GOAT Frankie De Jong Qualcuno di voi lo ricorderà l'anno scorso Nel gioco dell'anno scorso che gli ho odiato C'era una persona che amava Una di quelle era proprio De Jong Gli hanno dato la quarta stella pienedebole Normale alto Questo è un mediano puro Che però sa anche tirare e passare la palla Io credo E questo cercherò di provarvelo Sperando che non continui a non essere estinto Siamo di fronte al mediano difensivo Probabilmente più forte del gioco ragazzi Ai livelli di Bruno Totti Anche se diverso perché Bruno attacca meglio Ma qua abbiamo una carta totale Guardate che roba Carta totale Io lo adoravo l'anno scorso E quest'anno ho quattro piedi debole Per me potrebbe essere Forse addirittura più forte del Totti dell'anno scorso Bisogna andare a fare un confronto Passaggi Tiro Velocità Dribbling Difesa Aggressività e forza fisica Insomma Giocatore totale da usare con Ancora Può fare il CC Ma dal CC forse è meglio Valverde Perché è alto alto e tira meglio E finalizza di più Questo è il classico mediano puro A cui però puoi affiancare chiunque Perché è un mediano col worker di Talacantè Che nasce come difensivo nella carta base Ma ovviamente in questa versione a passaggi A tiro A tutto Quindi Io credo di poter dire Ad oggi Che la mediana più forte Senza contare le icone È De Jong Bruno Totti Se vogliamo anche contare le icone Potrebbe essere comunque De Jong Bruno Totti Secondo me Nel 4-3-1-2 Il mio 4-3-1-2 dei sogni A questo punto potrebbe essere De Jong davanti alla difesa Visto il work Il resto Bruno Totti a destra E Gullit a sinistra Questo è Ozzidane Uno dei due Ma prenderei Gullit Diera lo lascerei da parte Perché questo per me Così come l'anno scorso Può dare una mano in più Anche sui gameplay più marci Caso agilità eccetera Questa ragazzi Segnatelo Per me deve essere una carta Assolutamente folle Diorente Me lo aspettavo più bustato Bella carta Questo mi viene in mente Da usarlo da DC Più che da mediano Perché secondo me Valverde è superiore Anche se questo è più lungo Se vi ricordate Inizio anno c'era molto La domanda Valverde Vi dicevo sempre Se volete uno più ingombrante Di Orente Più babelico Più torre Valverde invece È molto più dinamico Molto più alagante Io credo che prenderei Comunque Valverde Sia come CC Che come CDC E credo che prenderei Ovviamente De Jong Però vabbè De Jong è ovvio Che sia un pianeta superiore Sto di Orente Raga Però anche da DC Potrebbe essere interessante Visto che è un metro Ottantaquattro Ma in game È veramente alto Ragazzi Io me lo ricordo È veramente gigantesco Da mediano Sicuramente molto forte Adesso non so il prezzo Quanto si stabilizzerà Però secondo me Valverde potrebbe essere Più forte Che tra l'altro Valverde È costa più o meno Come Valverde Tra l'altro Valverde Se la gioca pure con De Jong Ma per me De Jong Sarà più forte Proprio Renato Vi dà le quelli Proprio li legano le scarpe Questo De Jong Secondo me Però aspettate Che ovviamente lo provi Se lo utilizzate DC Questo Liorente Stile intesa Ancora Se lo utilizzate Mediano Ancora Ancora ovunque Comunque carta interessante Che cercherò di provarvi Giordialba Un buon terzino Per i link Questo non è male Secondo me È un po' un cantemesso Terzino Io me lo ricordo Anche qua Su fila 18 Si usava Io lo usavo Sul 18 Il Toz Il 93 Era Toz Proprio la stessa Immagine dinamica Tipo Valido Da usare con Ancora Con Sentinella Forse con Sentinella Però non lo so Se uno può Ovviamente prende Mendy O si sblocca magari Marsello O magari va su altri Ecco io Lo prenderei raga Nel caso magari Non arriviate a Mendy Non avete voglia Di sbloccarvi Ad esempio Marsello Perché costa caro Ovviamente non è facilissimo Da linkare Se non appunto Con De Jong O qualcun altro Casemiro Purtroppo Solida roba Raga Lasciatelo perdere Troppo lento Poi se avete Appena iniziato Magari Ma comunque Se tante di agilità Purtroppo Sto Casemiro Non può workare Ragazzi Con De Carta interessante Però qua torniamo Un po' al discorso Di DC Di questa altezza Che a me non piacciono Raga purtroppo Però sicuramente Per chi gli piacciono Quelli alla Cannavaro Questo tanta roba È una scheggia Vi ricordate già Quanto era fastidioso L'altro Ed è una gran bella carta Io comunque Da questo con De Credo di fiderò Perché appunto A me personalmente Non piace Il prezzo Però onesto Si prende sui 400k Però probabilmente A me era più Yuri Bercenci Che ha spostato In ruolo centrale Che questo con De Jesus Navas Questo L'avevo beccato Contro la versione Fritz Non era così malaccio Magari da terzino Peccato quel 50 Di forza Che è veramente brutto Però per il resto Passaggi Anche due piede Debole Che non è il massimo Però come terzino Magari raga Una chance La si può dare Secondo me Se vi serve Un link spagnolo Potrebbe fare il suo Da usare anche qua Con Sentinella Il prezzo Credo che anche qua Sia onesto Perché sta già a 200k Quindi ci può stare Non ho messo Oblak Ma Oblak Vabbè è un portiere Lo sapete che è difficile Valutarli Però Se è forte Come ha rotto le final È un portierone E poi c'è un altro Che è il dio Varane Io auguro a tutti voi Di piccarlo Soprattutto chi giocherà A fine fine anno Noi ormai sappiamo che Sapete che noi ormai Giochiamo più poco Io gioco giusto per le streaming Raga Per far due chiacchiere con voi Perché Non abbiamo più grossi stimoli Essendo un po' Nel fine dell'anno Chi ha finito Col competitive Però per chi gioca Questo ragazzi Io non oso immaginare Cosa possa essere Già l'UCL assurdo Io credo che questo Sia il miglior difensore Del gioco Insieme a Maldini Moments Perché è una carta Assolutamente folle Beato chi lo piccherà A prezzo Ovviamente al momento Completamente spropositato Vasquez Da usare Con ancora Varane Vasquez Veramente una bella carta 4-4 Alto-alto Guardate che Stats difensive Che ha anche Quindi secondo me Questo è un ottimo CC Oltre che esterno Però è anche Un ottimo esterno Mi lascia un po' Perplesso il prezzo Perché mi dicevano Prima 300k Però vista la carta Raga Mi pare un bello Scoiattolino Ah no Ma infatti sta più alto Quanto sta Eh no Sta quasi sul milioncino No 700-800k Onesto come prezzo Perché ripeto Un giocatore d'utile Questo anche nel 5-3-2 Per chi gioca a 5 Può essere una bella soluzione Ha il tiro Per fare l'esterno Non gli farei fare altre ruoli Tolto esterno Il CC Nel CC parro 4-3-2 Nel 4-4-2 CC davanti alla difesa Potrebbe essere una sorta di Bruno Però non so quanto difenda Onestamente Quindi io Mi sa un po' di Mount Tipo che non è tanto adatto Lo userei più CC nel 4-3-2 Come CC nel 4-3-2 Secondo me potrebbe essere Più forte di Llorente Tipo ragazzi Perché questo è un 4-4 Con alto-alto Ottime stazze di tiro Ottime stazze di dribbling Difende 82 lettura difensiva Alto-alto Quindi gran bella carta Da usare per me Con Sentinella Se lo usate esterno Invece puterei un bel falchetto Bella carta questo Vasquez Questo cercherò di provarvelo Perché mi aggrada Vedere la carta Fekir 4-4 Bonitai per l'Eusebio Molto ciotto Un buon COC Però Per me niente di che Poi per carità Questo ha un gran bel tiro Eh però Se posso Adesso poi i prezzi Saranno un po' diversi Perché Suarez costerà di più Però se posso Prendo poi Suarez E non Fekir Ipoteticamente Se mi serve un COC In liga O se voglio provare Qualcosa di diverso Ovviamente il prezzo Un po' diverso Però Fekir Se lo trovate Se avete appena iniziato Ci può stare Meglio sicuramente Di Messi Nelle varie versioni Tolto-toz Stile intesa Cacciatore Poi abbiamo Isaac Obiettivo Che Sì è un 4-5 Un metro 92 Quindi secondo me Un po' Bislungo Un po' Tronco è Però comunque 93 di agilità 94 di controllo palla Questo è il classico Giocatore gratis Che ti sblocchi Per qualche squadra esotico Buttare nell'SBC Quindi consigliate Consigliate Se poi volete utilizzarlo Per cambiare un po' Dal solito Stile intesa Motore Questi sono i Toz Vi dovremmo aver visti Tutti tranne Oblak Raga E poi vi ricordo Che domani Uscirà poi anche il video Raga Sul nuovo pass Stagionale Swap Non so se usciranno Perché è uscito Un bel swap Un bel pass Stagionale Con cinghiali E con elefanti rosa Quindi preparatemi E oltre a questo Mi sono dimenticato Di vedere l'ultimo giocatore Ovvero William Carvaglio Ragazzi William Carvaglio Che ho scordato Perché è un obiettivo Non è Toz Ma è Moments Credo sia Toz Moments O comunque Moments Eccolo qua Questo lo vede un po' Come un Rodri Come dicevo in live Che così come era Per la premia Regalato Un buon mediano Perché anche qui Chi ha pochi crediti Appena è iniziato Un 4-3 Peccato che è normale È normale Però ripeto Per chi ne ha bisogno Gratis Ne vale sempre la pena Sbloccarlo Secondo me comunque Rodri Era più forte Comunque Toz di Liga Incredibile ragazzi Meglio secondo me Di quelli di Premier Il top sono De Jong Varane Messi Anche se a me non piace Quest'anno Ma assuramente top Llorente Praticamente top Per me pure Suarez Perché è un cartone Pure Giordi Alba E con De Ottimo Lui Ovvero Carrasco E Vasquez E Fekir E anche Benzema Quindi gran bei Toz Raga Che mi soddisfano Molto più di quelli di Premier Vi dico la verità Soprattutto per questo De Jong Vedremo poi raga Nei prossimi giorni Se magari Rimotteranno anche qualche Spissi icon Io vi ringrazio Sto finendo la voce Vado a cena Ci vediamo prossimamente In live Per sbloccare Marcello Poi uscirò alle review Su Youtube Spero con gameplay Se laggerà il PC Senza gameplay E buon weekend A tutti boys Ci vediamo presto Grazie 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 Grazie